Grazie a tutti. Il mio collega del Dipartimento dell'Università di Trieste, il professor Paolo Bevilacqua, che affronterà la questione degli endowaste che è di grande attualità. Allora, buon pomeriggio. Vi guardo, riconosco alcune facce. Io veramente ho avuto piacere stamattina. Sono stato dal primo intervento, quindi ho visto entusiasmo nella prima presentazione, nel mio collega Marangon. Io sono professore universitario, quindi un dipendente di una pubblica amministrazione, fa un bellissimo lavoro, i miei studenti là. Però da parecchi anni sono anche consulente al Ministero dell'Ambiente. Sono in Commissione AIA, chi conosce AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, da nove anni e dall'altro ottobre sono in una commissione tecnica che si interessa di scrivere i decreti endowaste. Ecco, sono qua per questo. Un disastro. Cioè la mia presentazione, voi andrete via demoralizzati. Quindi io adesso vi chiedo su una cortesia, se volete, se avete piacere. C'è qualche imprenditore in questo tavolo, in questo seduto? Bene, bene. Perché chiaramente io adesso mostrerò la medaglia vera di quello che è la normativa. Grazie mille. Quindi farò così. L'ho preparata a rieri, o l'ho finita perché eravamo con Mauro Reini e a una trasmissione televisiva abbiamo parlato questo, quindi poi l'ho rimodulata. Tante belle cose all'inizio dirò perché sono, vi voglio, come dire, addolcire, perché poi arriveremo appunto a questo momento finale di depressione. Però alla fine concluderò con, come si dice, con una speranza, come ha detto prima qualcuno. L'avete visto? Neanche non mi fermo. Io oggi, di tutte queste belle cose, anche il mio precedente non lo vedo, eccola, ha parlato, ha spiegato benissimo. Io adesso invece mi focalizzerò solo sui rifiuti, mi focalizzerò solo sulla normativa di gestione dei rifiuti e mi focalizzerò solo in Italia. Quindi io vado a fare veramente un piccolo esempio di quello che è l'impedimento ai grandi progetti che stamattina abbiamo sentito parlare. Di cui io stesso, per esempio io, devi un attimo scivolo, io ho vinto un premio e ho un brevetto sul recupero degli scarti di caffè. Io. Quindi quello che mi ha parlato stamattina mi si è aperto il cuore. Non ci sono qua, è andato via. C'è un mio ex studente che mangiava i funghi nel mio dipartimento. Fatti col caffè. Ma perché il business non è andato avanti? Potreste ancora raccontarvi la vita. Proprio per un problema normativo. Ecco quindi che adesso cominciamo ad andare dentro nel dettaglio. Ecco l'antitesi che c'è. Io sono un ingegnere minerario, quindi conosco le materie prime. Dopo di me parlerà Morea sul critico a Roma-Tiri, argomento interessantissimo. Mi fa specie, non vedo lo sloveno, quando mi parlano di recuperare il platino dalle batterie o da quegli strumenti. Impossibile. I costi sarebbero infiniti. Impossibile. Chiudiamo, poi ci sarà Morea che parla di questo. Allora, queste sono due diapositive che vi illustrano un po' come ci comportiamo su questo pianeta. Allora, questo pianeta è una sfera, no? Anche ieri ho detto, bella grande. 6.371 km di raggio. Viviamo in questa biosfera molto bella. Scaviamo, tiriamo fuori un po' di carbone, un po' di petrolio, ci tiriamo fuori i metalli. E il consumo di materie prime lo vedete riportato in quel grafico. Partendo dal 1900, se ci mettiamo sull'asse delle ascisse 2015, oggi noi, oggi, oggi, estraiamo 85 miliardi, ripeto, miliardi di tonnellate di materie prime. Adesso, miei bravissimi ragazzi, io gli ho fatto fare l'esercizietto. Ma facciamo un conticino di quanto diventa grande il buco, se vogliamo tirar fuori questo. Ecco perché prima ho fatto quell'uomo che scava. Perché scava, che scava, che non te scava, a un certo punto, da qualche parte, arriveremo. Bene. Quindi l'andamento è crescente. Boh, questo è abbastanza male. Lì, nel grafico in basso, ho invece riportato la produzione dei rifiuti. Non la vedete bene, ma insomma, vi do un numero, anzi, vi lo mostro da qua se funziona. Allora, questo è un sito bellissimo, fatto con modelli matematici. Oggi abbiamo sentito parlare di modelli matematici bellissimi. Boh, per darvi un numero, oggi, 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 il mondo, il nostro mondo fa 2.2 giga, cioè 2.2, scusate, miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno. Miliardi di tonnellate. Allora, dobbiamo calarci nella realtà, no? Allora io, anche agli studenti, mi piace cominciare con sta frase che forse la conoscete, no? È vero, la natura, in natura non si producono rifiuti. Assolutamente vero. Ma perché? Per un semplice motivo, perché è un meccanismo semplice erodato da qualche milione, miliardo di anni che sia. Noi siamo un meccanismo complesso, che ci complichiamo la vita. Quando io dico ai miei ragazzi che riguardano sempre là, che questo telefonino l'ho pagato x euro, non dico quanto, ma tanto, e il problema è questo, se io voglio recuperare il mio digno, o quello che dicevo prima qua, sapete qual è la risposta mia, che sono un ingegnere, che non lo ho detto, è impossibile. Perché? Perché l'energia che dovrei mettere qua dentro, per chi è fisico, sa che è nettamente superiore a quella che era necessaria per costruirlo. Quindi, soluzione inapplicabile. Ma sì, però noi dobbiamo anche applicare un concetto di sostenibilità. Allora, l'imprenditore, a chi dà i soldi all'imprenditore per applicare la sostenibilità, per smontare questo? Bene, quindi questo è il problema. Quindi questa frasetta che ho riportato bellissima, nella realtà oggi noi non l'applichiamo. Siamo sempre nel mondo dei rifiuti. Questa è la gerarchia che voi trovate. Cioè l'Europa ci detta, ci indica bellissimi concetti. Quindi anche questa figura che io vi mostro, e tutti dicono, dobbiamo andare verso la prevenzione, il riutilizzo mai di scarica. Se qualcuno arriva a essere concentrato fino alla fine della mia disquisizione, capirà che oggi, se non facciamo qualcosa sul paradigma normativo, spostiamo la piramide up and down. Punto, finito. Allora la comunità europea è bravissima, loro sono i più bravi, dicono guardate signori, noi abbiamo un anello mancante, dobbiamo fare un piano d'azione. E quindi questo piano d'azione dice, andiamo verso l'economia circolare, quindi siamo sostenibili, non vogliamo CO2, dobbiamo utilizzare in modo efficiente le risorse e poi dobbiamo essere competitive e vincere su tutti. Vabbè, cominciamo. Allora, poi non basta, per chi conosce un po' l'argomento, nel 2018 siamo sommersi da direttive. Siamo sommersi da queste direttive, si fa, per chi un po' del mestiere, il decreto legislativo 152 del 2006, il codice dell'ambiente, cioè quello che descrive, declina tutti i cinque temi ambientali, ma si fa un collegato ambientale, il 2016. Cosa fa il collegato ambientale? Unisce tutta la parte ambientale con l'economia circolare e la sostenibilità. Quindi già prima era difficile quello, adesso io vi suggerisco di leggervi il collegato ambientale. Bene, continuiamo. Allora, cominciamo a scrivere numeri, cioè diciamo, guardate che noi entro il prossimo anno, un mese dal prossimo anno, dovremo recepire degli obiettivi che ho scritto io ambiziosi di riuso e riciclo. Vedete le percentuali e vedete quegli andamenti. Allora, ci sono leggi della fisica semplici, se noi vogliamo ottenere un risultato, più alto è l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere, più energia dobbiamo dare al sistema. Una legge, no? Quella che parlavamo ieri, ma... Ecco, sono ieri, perché ieri ho imparato che esiste anche un terzo principio della termoglianza. Ecco, quindi anche scrivere questi numeri bisogna essere un po' cauti, perché molto spesso, e qua potrei aprire un libro a scrivere questo discorso, spingere per esempio il riciclaggio, che sia domestico, che sia industriale, verso certi fronti non ha senso. Se andassimo a fare veramente un'analisi corretta vedremo che non ha senso. Ma perché? Ma perché poi ci saranno esempi di industrie, le tecnologie oggi, per esempio nella recupero e separazione di rifiuti, plastiche, piuttosto che metalli, che vetro, esistono, sono avanzate. Quindi perché mia mamma deve andare con i sacchettini a portare, e magari, povera, cade con le scale, quando esistono tecnologie? Ecco, allora, il primo problema che abbiamo è mettiamo in gioco le tecnologie che abbiamo. Ce ne abbiamo? Siamo forti nelle tecnologie. Che in Italia è forte. Beh, allora uno mi dice, ma allora dove sta il problema? Ma il problema sta nella normativa. Vi do due numeri, ma così anche per cultura, perché li avevo già pronti. Allora, questi sono rifiuti urbani, no? Rifiuti urbani speciali. Questa è la grande differenza tra i rifiuti. Questi vedete l'andamento, le barrette sono divisi per 2014, 15 e 16, e vedete quanto produzione di rifiuti abbiamo per abitante anno. Io personalmente faccio 490-480 kg anno di rifiuto urbano. Sorprende vedere quei numeri, no? Vedete Danimarca? Avrete letto perché Danimarca? Non sapete. I danesi che cosa hanno fatto? Ormai sono avanti, loro dicono. Hanno costruito un inceneritore che fa più o meno 520.000 tonnellate all'anno, dove hanno fatto anche una pista di sci sopra l'inceneritore. E hanno proprio una visione diversa. Io non entro perché sono un tecnico, non voglio, non mi interessa sapere della politica, però voi sapete che gli inceneritori in Italia, e ho detto inceneritori, non ho detto termovalorizzatore, proprio perché voglio insistere sul fatto che brucio rifiuti, sono visti col fumo negli occhi. Lo sappiamo tutti. Però guardate lì. Danimarca, Germania. Andiamoci a guardare dove siamo noi. Noi siamo là. Ma vedete che è Portogallo, Romania. Allora, andiamo ancora avanti. Questo è interessante. Cioè anche per capire che quando parliamo di economia circolare, dobbiamo renderci conto che quel color viola, signore e signori, oggi ho imparato da dire signori, guardiamo il color viola. Cos'è il color viola? Discarica. Quindi, io capisco fare l'economia circolare, ma guardate quei paesi che stanno là, cos'hanno di percentuale, ci sono paesi che vanno al 90%. Oh, questi dati non sono del medioevo, sono del 2016. Quindi, siamo ancora distanti da quella piramide che vi mostravo prima. Vabbè, qua vedete, UE sono i 28 paesi dell'Unione Europea, e nuovi stati membri, NSM, sono i nuovi stati membri. Ecco, vi voglio mostrare che questa è la discarica. Ma perché vi dico questo? Perché noi, tecnologicamente, vedete, tecnologicamente siamo avanti, saremo in grado di migliorare, ma c'è tutto un sistema normativo che lo rende difficile. Vado avanti perché sennò dopo... Questo sarebbe inceneriti, ancora vedete che bel picco che fa la Danimarca, appunto perché loro hanno puntato tutto sui rifiuti. La Germania e noi, Italia, se vedete, siamo intorno ai 100 kg abitante per anno. Che poi, tutti voi sarete del mestiere, ma insomma, poi sappiamo cose interessanti, che magari i rifiuti urbani partono da noi, vanno via con una nave e vanno a essere termovalorizzati in un inceneritore a Rotterdam. Io ricordo sempre un convegno mondiale che ho partecipato a Napoli, venne questo olandese e la prima diapositiva si vedeva l'Italia con una caravella, per ricordare, che partiva con i rifiuti e mostrava questo tragitto che i rifiuti salivano fino al porto di Rotterdam. Quindi, diciamo che dal punto di vista proprio tecnologico, ripeto, noi saremo avanti. Noi abbiamo un problema gestionale e normativo. Bene. Vabbè, qua... Ecco. Parlavo prima con Rumiel. Bellissimo questo. Questi sono i dati di produzione di rifiuti urbani in Italia dal 2005 al 2017. Beh, allora siamo stati virtuosi. Siamo scesi di produzione. Uno direbbe guardando questo grafico. Ma non è così. Quel dato... La matematica, abbiamo detto prima, è importante. Più che la matematica, i dati. C'è una grande legge che dice i dati parlano chiaro se sono ben organizzati. Cioè, i dati... Quando stivo parlando dei dati non bisogna solo raccogliere i dati. I dati devono essere gestiti. E questa è una gestione dei dati. Adesso voi concentratevi sul minimo che vedete là. 2013. Io adesso torno indietro. Guardate 2013. Qual è il problema? Che se non c'è denaro, la gente non compra e di conseguenza non produce rifiuti. Ecco spiegato la mena riduzione del rifiuto urbano in Italia. Qui poi, vabbè, qui poi vi volevo mostrare un po' della raccolta differenziata. Che siamo nelle fasce nord, centro, sud e Italia. Con indicati gli obiettivi. Queste barre si riferiscono nel periodo 2013-2017. Mi sono fermato come obiettivo 2012. Se voi guardate non lo raggiungiamo neanche quello del 2011. Oggi. Va bene. Allora, parte più normativa pur essendo un ingegnere ma per dare un po' di chiarezza anche a quello che si è detto e dove sono i vincoli. Allora, sappiamo benissimo che cos'è un rifiuto. Tutto è ben normato. noi italiani siamo bravissimi a normare. Immaginate che una direttiva europea quando viene scritta sui rifiuti ha dieci pagine. Quando viene trasposta in lingua italiana almeno cinquanta. Perché? Perché proprio la lingua inglese è molto più settica, molto più precisa. Noi siamo grandi poeti. Quindi implementiamo l'informazione. Comunque, lì c'è e noi sappiamo benissimo che cos'è un rifiuto. Allora, prima sentivo parlare di concetti. Allora, oggi, oggi in Italia esiste la definizione di rifiuto sottoprodotto end of waste. Tutto il resto non esiste più. Materia prima seconda non c'è più. Basta, sparita. La materia prima seconda è l'end of waste. Questo per precisare anche per correttezza. Allora, anche qua se noi leggessimo questa che è un estratto di un articolo della nostra norma testo unico ambientale 152 del 2006 sapremo benissimo che cos'è il sottoprodotto. È lì. E uno legge esattamente. Dice è applicabile la sostanza all'oggetto? Sì. È certo che la sostanza? Sì. È certo. Bene. Quindi noi senza ombra di dubbio possiamo cominciare a declinare. Due esempi vi porto. Uno per chi è un po' del mestiere saprà che le terre rocce da scavo che sono essenzialmente le terre che si producono durante le opere gli scavi, gallerie, strade ci sono stati per anni indagini e procedimenti condanne per corretta non corretta gestione dei rifiuti. Per mia facilità vi ricordo che i rifiuti seguono due regime. Regime del codice civile ma soprattutto regime del codice penale. E questo lo sappiamo tutti. Quindi c'è stata veramente un disastro su questo. Finalmente con un decreto del presidente nel 2017 si è definito che le terre rocce da scavo sono dei sottoprodotti. A dirla così sembra cosa cambiava? Il mondo. Il mondo. Perché vi garantisco che prima per fare un cantiere e uscire dal cantiere con un camion bisognava fare il formulario compilare il modello unico di dichiarazione. Quindi c'era tutto un procedimento in cui era facilissimo incorre in errore. Quindi questo è stato dal punto di vista siamo gli industriali qui. Io vorrei che proprio un industriale parlasse di questo. Ha cambiato lo scenario dei cantieri però è passato diciamo anche un po' sottotraccia. L'altro esempio di sottoprodotto di cui parlerà rumiele penso anche Bioman se c'è e il biometano prodotto da una digestione da rifiuti. Anche questo è un sottoprodotto. Cercavamo prima quel termine che mi dispiace che rimangano acronimi. DDU è un decreto dirigenziale della Unica Tau di un'altra questo decreto è stato fatto dalla regione Lombardia e poi arriverò che sono stati un po' scissionisti perché ci si aspettava che questo decreto arrivasse gerarchicamente dallo Stato italiano. Comunque di questo come ho scritto lì parleranno i relatori futuri. Andiamo finalmente sull'endowest tanto basta endowest si chiama cessazione della qualifica di rifiuto. Siamo italiani io parlo italiano. Cessazione della qualifica di rifiuto. è un concetto semplice che è stato introdotto da una direttiva europea la prima direttiva diciamo la direttiva madre dei rifiuti che è la 98 del 2008 e che precisava semplicemente come ho detto in lingua inglese che cos'è un endowest e questa è un'operazione che secondo me è sublime perché noi lo diceva prima noi prendiamo un qualcosa che vorrei buttare via e lo trasformo per portarlo a un bene che mi serve. Quindi vuol dire che quel bene quel prodotto che ho generato mi permette di ridurmi quel scavo della terra che vi ho mostrato prima. Bene. Tecnologicamente siamo avanzatissimi sappiamo farlo su tutto quindi basta finito no non è questo il problema nasce qua il problema nasce non ve la leggo nasce perché facendo nome e cognome tanto è sul sito non c'è problema nasce perché un'azienda veneta per chi conosce che faceva i PAP in termine tecnico non si chiamano pannolini ma si chiamano pannolini assorbenti per persone i PAP si dicono un'azienda veneta presenta un articolo 2.11 del decreto legislativo 152 che sarebbe un impianto di ricerca e sperimentazione per recuperare cellulosa polimeri dai pannolini ottimo bellissimo progetto tecnologia perfetto tutto perfetto procede la regione veneto fa ricorso al TAR vince ve la faccio semplice ricorre quant'altro interviene interviene il consiglio di stato il consiglio di stato cerco di dirlo in parole semplice prende spunto da un coma che esiste quel coma 2 e guardate cosa ho scritto dice i criteri i criteri sono essenzialmente dei regolamenti sono adottati quindi i criteri che dicono guarda che un rifiuto cessa di essere tale sono adottati in conformità quanto stabilito dalla disciplina comunitaria quindi lui dice hai una disciplina comunitaria si bene fuori non ce l'hai bene in mancanza di criteri comunicati caso per caso cosa vuol dire caso per caso che non è che metto insieme tutti i rifiuti vedrete materiali da costruzione deve fare il suo decreto parlava prima il dottore mi scusi il cognome eh parlava prima dei pneumatici fuori usi del polverino no fermi non si può ci vuole il decreto quello lì oggi quello lì che io che io ma io sono con lei quello lì è un rifiuto allora il polverino che si ottiene dai PFU il termine tecnico è un materiale perfetto per fare i materassini per far giocare i bambini le panchine niente quello oggi signori è rifiuto e la tecnologia voglio dire banale un trituratore un separatore magnetico per tirar via perché perché c'è quella frase lì caso per caso bene allora per non essere proprio devastante contro contro tutti esistono dei regolamenti europei beh sì diremo quanti tre tre eccoli ma come tre tre esistono tre ma perché perché gli altri stati si comportano diversamente bene e regolamenti italiani esistenti ce ne saranno butola 15 due combustibili soli secondari di cui io so ben che che Rumiel parlerà dopo che è un argomento secondo me nobilissimo importantissimo praticamente è l'utilizzo di chiamiamo le plastiche quindi prodotti recuperati con potere calorifico in sostituzione ad altri combustibili per esempio fossili oppure il fresato d'asfalto voi tutti sapete ecco questo questo ve l'ho scritto voi questa è la sentenza del consiglio di stato dice la scelta fatta dal legislatore nazionale con l'articolo è stata quella di individuare nel regolamento ministerale l'atto idoneo a definire non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circondazione cioè che cosa dice il consiglio di stato il consiglio di stato dice no le regioni non possono demandare perché fino al 2018 le regioni potevano demandare per chi è del mestiere l'articolo 208 che si chiama autorizzazione ordinaria permetteva alle regioni di dire ok tu presentami un progetto su questo rifiuto e mi dici come lo trasformi io lo valuto o ARPA o i tecnici della regione o l'istituto superiore della sanità li ho tutti ed esco con un regolamento per quel rifiuto e dico guarda se tu fai così così ecco e questo lo facevano tutte le regioni ora la sentenza dice no perché vogliono farne uno unico cioè l'Italia deve farne uno uno ora è logico nella mente del legislatore perché lui dice c'è troppa disparità tra regione e regione Lombardia e Veneto Sicilia e Calabria e quindi vorrebbe uniformare questi criteri ecco per dirvi questo se voi andate in internet e scrivete PAP costa che è il nome del ministro vedrete che è lui che firma questo decreto tre giorni fa una settimana fa non attuativo l'ha solo firmato quanti sono i decreti in preparazione 14 tanti pochi non lo so certo è che la tipologia di rifiuti che potrebbero essere recuperati sono molti di più vi porto i più veloci perché inerti da costruzione e demolizione giusto per darvi un idea ma voi sapete quanti fa l'Italia di rifiuti da inerti da costruzione in un anno 50 milioni di tonnellate quindi secondo voi che 50 milioni di tonnellate che potremmo fare un volume abbastanza grande non penso tutto questo building ma poco mancherà che oggi sono rifiuti se passasse questo piccolo regolamento che non cambia niente diventano prodotto quindi non andiamo a scavare fare nuove cave ecco cioè questo è il problema dell'economia circolare andiamo avanti rifiuti a spazzamento strade anche se qui le quantità sono molto poche questo per esempio che lo conosco molto bene sono impianti super tecnologici che trattano sono stati autorizzati dalle regioni finito questi non possono più esercitare la gestione di recupero del rifiuto per trasformarlo in prodotto o ancora scorie e ceneri pesanti palper e carta da macero pneumatici fuori uso bene per concludere bene allora complicazioni perché complicazioni perché complicazioni sono quelle che chi ha un iphone sa che le complicazioni su un apple watch sono quelle che sono scritte dentro perché complicazioni sono difficili da capire quali sono le complicazioni che questi decreti io ripeto da ottobre sono a roma seduto con questi signori che cerchiamo di combinarli ad oggi siamo ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo abbiamo fatto praticamente niente scriviamo ci giriamo la palla allora io scrivo va all'ufficio legislativo no guardi qua manca almeno vabbè torna indietro riscrivi lo mandi ecco noi siamo circa allora quando finirà questo iter in Italia poi tutti questi documenti che adesso stiamo scrivendo sette andranno non tutti assieme in Europa e c'è un periodo di stand still si chiama dove loro sono fermi lo valutano sicuramente trovano qualcosa poi parte il corriere a cavallo viene giù riconsegna il regolamento e noi adesso bisogna rivederlo tutto cominciano le feste di Natale del prossimo anno e quindi ecco capite che il sistema non è possibile perché perché questo problema non capita solo per i nuovi impianti ma capita anche per i rinnovi cioè tutte le autorizzazioni di gestione di recupero di impianti hanno una vita normalmente dieci anni molti impianti sono in scadenza quindi le regioni non si prendono la responsabilità quindi signori quegli impianti sapete cosa fanno chiudono e cosa succederà di quei lavoratori non posso fare i nomi ma vi dico che non stiamo parlando di uno due ma stiamo parlando di migliaia di lavoratori allora dico mi va bene lo sviluppo sostenibile però la prima roba che facciamo mettiamo in regola le carte che abbiamo risolviamo questo problema io lì ho scritto la soluzione e l'ho detta l'ho scritta al mondo ma voglio dirla perché come dico sempre verba volant ma magari qualcosa resta c'è una possibilità cioè basterebbe che venisse scritto un piccolo emendamento nel decreto crescita voi sapete che il decreto crescita è uscito però si possono fare degli emendamenti se qualcuno scrivesse un piccolo emendamento che è già pronto scritto tecnicamente in cui dice signori visto o in attesa di un decreto caso per caso si autorizza le regioni a demanare decreti ad hoc in questa maniera noi risolveremo tutto mi dispiace perché non sono stato come Paoli perché io quando quando ho iniziato ho detto mi dispiace perché lui è entusiasta io sono anche entusiasta sono sicuro però noi viviamo qua noi viviamo questa realtà i lavoratori ve li porto io qua a fine mese che non avranno più lavoro capite quindi questa è la realtà che volevo presentarvi su questo Endowaste grazie domande certo grazie Paolo se ci sono domande prego a me è un po' impressionato quella sua frase che ha detto mettiamo in gioco le tecnologie invece di spingere all'educazione perché deve essere un out out e non un et et allora il problema che ho detto non è che ho detto che non bisogna fare educazione ambientale l'educazione ambientale deve essere fatta ma non bisogna costringere il cittadino a fare qualcosa di estremo cioè la raccolta differenziata quando noi insistiamo per esempio guardi io le dico nel mio comune sono di Trieste che dobbiamo lavare il vasetto di yogurt ecco guardi io conosco l'amministratore delegato gli ho spiegato mille volte che è una follia perché abbiamo parlato di economia circolare di LCA ma lei si è di conto che io devo lavare e quindi allora prendo il vasetto uso dell'acqua sporco mando nel lavandino vado in un depuratore per cosa? le plastiche quando vengono recuperate vengono macinate e lavate quindi e l'acqua viene riciclata quindi è questo che io dico non serve estremizzare oggi noi tecnologicamente siamo perfetti e questo non ho mai detto educazione ambientale educazione ambientale deve essere fatta già a livelli basi dico non serve estremizzare la raccolta differenziata perché esistono le tecnologie ad esempio altro concetto separare molti materiali non ha senso perché esistono delle tecnologie per esempio sui separatori accorrenti parassite dove lei tira fuori i metalli non ferrosi con un recupero del 100% allora certe cose bisogna conoscerle prima di imporre questo voglio dire in Italia noi abbiamo centrali a carbone ma non una diverse allora io le dico che sono un tecnico che sost... se ne abbiamo ma voglio dire ma vi posso dire cioè se uno conosce lo zoccolo della produzione energetica è fatta su carbone in Italia allora se uno sapesse che l'utilizzo del CSS sostituisce totalmente il carbone ed è più pulito forse capirebbe ma questo è non c'è conoscenza allora io dico ognuno deve fare il suo dal punto di vista tecnologico le garantisco che l'Italia è fortissima noi abbiamo le conoscenze possiamo andare avanti il problema è che non bisogna troppo chiudere nella burocrazia questo quindi ecco per dire non so se lei li sapeva però ripeto in Italia noi abbiamo tante centrali a carbone ancora attive che potremo chiudere domani domani se non ci sono altre domande io vorrei chiedere solo un chiarimento prima diceva che basterebbe un emendamento semplice per riuscire a risolvere il problema caduto per caso perché non lo si fa allora chi è che blocca chi è che impedisce di fare questa semplice come si chiama lei gli do la mano dopo guardi lei viene allora io ogni volta che vado allora attenzione sarebbe transitorio allora ho detto prima sarebbe transitorio perché vorrebbe dire ritornare a dare potere alle regioni ed è effettivamente questo un problema però questo basta che gli schieramenti politici si mettano d'accordo pensi che sono state già tre volte presentati questi emendamenti questo sempre bocciati adesso ce n'è uno pronto ancora più si spera che qualcuno lo porti avanti basterebbe pochissimo nel giusto per dare respiro al ministero di portare questo decreto unico allora quindi il problema è basterebbe che gli schieramenti politici si mettessero d'accordo parlassero un attimino e direi lo prendessero seriamente grazie transitorio nell'attesa dei decreti dei decreti ad hoc oppure di un regolamento europeo ok va bene ok grazie Paolo allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti